Vediamo adesso come risolvere una rete elettrica nella quale sono presenti delle impedenze in serie. Supponiamo di avere tre impedenze in serie, ricordandoci che le impedenze sono in serie se sono attraversate dalla stessa corrente, cioè se fanno parte dello stesso ramo di un circuito. Identifichiamo queste tre impedenze dandogli un nome Z1, Z2 e Z3 rappresentate ovviamente dai loro numeri complessi. Indichiamo con V il fasore V la tensione ai capi dell'intera serie delle tre impedenze e con I la corrente del ramo che abbiamo detto essere uguale in tutte e tre le impedenze. Appunto come condizione per essere in serie. Continuiamo a identificare le grandezze elettriche nel ramo indicando le tensioni ai capi di ogni singola impedenza, chiamandoli rispettivamente V1, V2 e V3 con i loro fasori e rispettando il verso convenzionale della tensione, cioè col più dove la corrente risulta entrante nel corrispondente bipolo. Ogni impedenza, abbiamo detto, è rappresentata da un numero complesso, quindi una parte reale che rappresenta la componente resistiva R e una parte immaginaria che rappresenta la componente reattiva X. Quindi per la Z1 scriviamo R1 più GX1, per la Z2 R2 più GX2 e per la Z3 R3 più GX3, dove le componenti reattive, quindi le parti immaginarie, potrebbero essere positive se di tipo induttivo o negative se di tipo capacitivo. Ognuna di queste impedenze la possiamo anche esprimere come col suo modulo e con il suo angolo caratteristico FI. Quindi abbiamo rispettivamente i moduli Z1 e angolo caratteristico FI1, Z2, FI2, Z3 e FI3 relativamente alle tre impedenze. Se indichiamo quindi con I la corrente nel ramo, la corrente quindi uguale in tutte le impedenze e indichiamo della corrente anche per lei il suo modulo, cioè il valore efficace è la fase FI con I, possiamo adesso andare a scrivere le relazioni che ci forniscono le tensioni e i capi di ogni singola impedenza, quindi dall'applicazione della legge di Ohm generalizzata per ognuna delle impedenze, quindi la V con I sarà data dal prodotto vettoriale della impedenza Z1 per la corrente I con I e così per la V2. Queste tre equazioni abbiamo detto che rappresentano l'applicazione della legge di Ohm generalizzata a ogni singola impedenza. Vediamo adesso la relazione che esiste fra le tensioni nel ramo dove la tensione totale V ai capi del ramo è data dalla somma vettoriale delle tre tensioni parziali ai capi delle tre impedenze V1 più V2 più V3, ovviamente somma vettoriale di numeri complessi. Quindi se andiamo a sostituire ciò che ci dice la legge di Ohm generalizzata che abbiamo scritto per ognuna di esse, scriviamo al posto di V1 Z1 per I1, al posto di V2 Z2 per I2 e al posto di V3 Z3 per I3, dove stiamo indicando con I1, I2 e I3 le correnti nelle singole impedenze. Sapendo che le tre correnti, essendo le impedenze in serie, sono uguali alla corrente I del ramo, possiamo raccogliere a fattore comune le tre impedenze che andranno moltiplicate per la corrente I uguale per tutte le impedenze. Questa scrittura di questa equazione rappresenta la legge di Kirchhoff delle tensioni alla maglia rappresentata dal ramo delle tre impedenze chiusa ai capi della tensione V applicata complessiva. rappresentiamo adesso graficamente le tre tensioni ai capi delle singole impedenze sul piano di Gauss, il piano reale immaginario sul quale rappresentiamo i fasori e i relativi numeri complessi. indichiamo un'asse di riferimento che rappresenta l'asse su cui giace la corrente I nel ramo, che quindi formerà un angolo uguale alla fase della corrente FI con I rispetto all'asse dei numeri reali. andiamo a scrivere quindi per ogni impedenza l'espressione della tensione, abbiamo detto dalla legge di Ohm generalizzata, per ogni singola impedenza, quindi abbiamo che il prodotto dei vettori avrà come risultato, quindi abbiamo che il prodotto di due numeri complessi lo otteniamo, ha come risultato il prodotto dei moduli e la somma delle fasi, in questo caso la somma della fase della corrente è con l'angolo caratteristico dell'impedenza, e quindi per la Z2 lo stesso modo abbiamo V2Z2 per I, quindi il prodotto dei moduli di Z2 della corrente I con fase data dalla somma della fase della corrente con l'angolo caratteristico dell'impedenza Z2, analogamente per la V3, Z3 per I con fase data dalla somma della fase della corrente con l'angolo caratteristico dell'impedenza Z3. Quindi i tre vettori V1, V2 e V3 li possiamo disegnare sul nostro piano avendo come riferimento l'angolo FI con I, la fase della corrente, quindi lo sfasamento fra la tensione ai capi di un'impedenza e la corrente che attraversa l'impedenza sarà data proprio, l'angolo di sfasamento sarà pari all'angolo caratteristico dell'impedenza stessa, quindi supponiamo che di disegnare la V1, la V2 con le relative fasi e quindi con gli sfasamenti rispetto alla corrente FI con I. vedete che le tre tensioni rispetto all'asse su cui giace la corrente si presentano sfasate rispetto alla stessa di un angolo uguale all'angolo caratteristico della corrispondente impedenza. disegniamo adesso sempre il diagramma vettoriale delle tensioni sul piano di Gauss, reale e immaginario, dalla legge di Kirchhoff che abbiamo scritto sopra abbiamo che la somma delle tre tensioni ai capi delle tre impedenze deve essere uguale alla tensione applicata alla serie delle impedenze quindi disegno le tre tensioni V1, ne disegno la somma disegnando i vettori a partire dal primo e poi i successivi ripartono da dove finisce il primo con il loro angolo caratteristico quindi componiamo la somma dei tre vettori V1, V2 e V3 e la tensione ai capi della serie la tensione complessiva V data dalla somma vettoriale dei tre vettori V1, V2 e V3 non sarà altro che il vettore che unisce l'origine dei nostri assi reale e immaginario con la punta dell'ultimo vettore V3 disegnato. Se adesso andiamo a disegnare quindi, a riprendere, meglio dire, l'espressione della tensione che abbiamo scritto V come somma del prodotto delle impedenze per la corrente I quindi riprendiamo l'espressione, la riscriviamo per andare a notare le caratteristiche di questa espressione quindi la tensione V è data dalla somma del vettoriale delle tre impedenze Z1, Z2 e Z3 moltiplicata per la corrente I quindi se la somma delle tre impedenze la pensiamo uguale a un'impedenza equivalente che chiamiamo per semplicità ZS questa ZS data dalla somma appunto delle tre impedenze sarà l'impedenza equivalente della serie e l'espressione che abbiamo ottenuto qua è di nuovo una legge di Ohm generalizzata applicata a una singola impedenza ZS ai cui capi è presente la stessa tensione V quindi l'impedenza equivalente della serie di, in questo caso, tre impedenze è data dalla somma delle tre impedenze intese ovviamente con la somma dei numeri complessi rappresentativi quindi se andiamo a riscrivere per ogni impedenza la sua espressione parte reale più parte immaginaria che poi possiamo andare a riscrivere raccogliendo le parti reali come somma delle tre componenti resistive e della parte immaginaria complessiva data dalla somma delle tre componenti reattive abbiamo appunto che l'impedenza equivalente della serie sarà un'impedenza che avrà parte reale data dalla somma delle tre componenti resistive e parte immaginaria data dalla somma delle tre componenti reattive ovviamente questa espressione è generalizzabile se il numero di impedenze in serie fosse diverso da 3 quindi il nostro circuito può essere semplificato ottenendo un circuito equivalente in cui andiamo a sostituire le tre impedenze in serie con l'impedenza equivalente Zs equivalente nel senso che nel circuito se noi sostituiamo le tre impedenze Z1, Z2 e Z3 con la Zs non cambiano la corrente che scorre nel ramo e la tensione ai suoi capi avendo rispettato la legge di Ohm generalizzata riportiamo sul piano di Gauss anche il vettore della corrente I che presenta fase FI con I rispetto all'asse reale abbiamo detto che angolo di sfasamento ci sarà fra la tensione V e la corrente I nel ramo è facile da determinare perché siccome la V è uguale al prodotto di Z con S per I quindi la esprimiamo da Z con S come il suo modulo e il suo angolo caratteristico FI con S quindi la Zs che presenterà modulo dato dal quadrato della parte reale cioè dalla radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale e di parte immaginaria quindi della somma delle singole componenti che rappresenta poi angolo caratteristico FI con S data dall'arco tangente della sua parte immaginaria diviso la parte reale quindi nel nostro caso l'arco tangente di X1 più X2 più X3 diviso la somma R1 più R2 più R3 quindi questa è l'impedenza equivalente della serie abbiamo detto queste sono in chiaro l'espressione del suo modulo e del suo angolo caratteristico FI con S l'angolo di sfasamento presentato dalla tensione rispetto alla corrente è esattamente uguale all'angolo caratteristico dell'impedenza della serie FI con S quindi avremo che l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente rispecchierà il fatto che l'impedenza equivalente della serie sia di tipo ohmico-induttivo o ohmico-capacitivo nel suo complesso quindi se FI con S risulterà maggiore di zero cioè se prevale la componente reattiva di tipo induttivo nell'impedenza e quindi ZS complessivamente sia di tipo ohmico-induttivo allora avremo che la tensione V risulta in anticipo rispetto alla corrente I viceversa se l'angolo caratteristico dell'impedenza FI con S è minore di zero allora la ZS sarà complessivamente di tipo ohmico-capacitivo cioè di tipo RC e in questo caso la tensione al contrario rispetto a ciò che abbiamo disegnato nel nostro diagramma risulterà in ritardo rispetto alla corrente risulta